Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni avevano dato un assaggio delle immagini di coppia postando il primo selfie insieme. Stesi sull'erba delle Dolomiti, tra coccole ad alta quota, i due si erano fotografati per la prima volta regalando ai follower una chiara ufficializzazione della loro liaison. Belen Rodriguez salta al collo di Elio Lorenzoni, lui la abbinghia a se stringendola tra le braccia. Le prime immagini dell'amore tra la sexy argentina e il manager italiano mostrano una confidenza e una complicità collaudata. I due giocano sdraiati sui prati, si tengono stretti e ridono di gusto. La showgirl è più felice che mai. Da tanto non la si vedeva così raggiante e serena. Lui è premuroso e attento. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni nella loro mini vacanza sulle Dolomiti non si sono fatti mancare nulla, nemmeno un volo in deltaplano. La Rodriguez ha documentato le sue virate ad alta quota in video social mostrando tutta la sua scioltezza e voglia di libertà. Nessun timore, ma solo desiderio di osare e di sentirsi leggera. All'istruttore che le diceva di non pensare al cellulare ma alla guida, lei ha replicato di aver bisogno di alcune foto per la sua galleria. Proprio dalle Dolomiti Belen Rodriguez ha scelto di lanciare il primo selfie di coppia. Lei e lui stesi sull'erba a coccolati. Dopo aver postato le prime immagini del nuovo fidanzato, la showgirl ha regalato ai fallafoto insieme per testimoniare che è proprio arrivato il momento di gridare al mondo la sua nuova raggiunta felicità. Qualche giorno prima aveva pubblicato un album di scatti di Elio aggiungendo nella didascalia. 3, 2, 1 e ora scatenatevi come ad alludere al gossip che stava per esplodere. E tra i post è spuntato pure un video hot di mani intrecciate e lingerie di pizzo. I follower non hanno che potuto replicare con i complimenti.